Il caneta è in preda al caos. Creature, maggiore, palazzi. Nessuno sa dire cosa sia, non vuol da dove provengano. Abbiamo sempre pensato che la vita aliena sarebbe arrivata dal cielo, ma è arrivata dalle profondità marine, da un portale interdimensionale sul fondo dell'oceano Pacifico. Qualcosa laggiù ci aveva scoperti. Pensavano che gli umani si sarebbero nascosti, arresi, che avrebbero fallito. Inizio operazioni di lancio. Gipsy dentro. Non consideravano la nostra capacità di resistere, di rialzarci. Non credevano che avremmo raccolto la sfida. Piloti pronti alla connessione. Andiamo a pescare. Due piloti collegati a punte neuronale. Pronti ad attivare gli hacker in... Tre... Due... Uno... Oggi sull'orlo dell'abisso... Allo scadere del tempo... Abbiamo scelto di credere l'uno nell'altro. Oggi affrontiamo i mostri alle nostre porte. Oggi noi scongiuriamo l'apocalisse. Non so... Grazie a tutti.